Di migliaia di soldati italiani ma anche civili dopo l'8 settembre del 43 furono deportati dalle truppe tedesche in ritirata e internati nei campi di concentramento in Germania e Polonia. Molti furono liberati nel maggio del 45 con la caduta del regime nazista, altri invece morirono nei campi di concentramento. A Siano nel Salernitano, alla presenza del prefetto Francesco Russo e di numerose autorità, cerimonia solenne per la consegna delle medaglie d'onore alla memoria, concesse dal presidente della Repubblica 48 cittadini della provincia di Salerno internati nei lager nazisti. La commozione ha accompagnato figli e nipoti che hanno ricevuto l'onoreficenza. Mio padre è stato per due anni in Germania, deportato dai tedeschi e ha subito un trauma così grande che non riusciva nemmeno a parlarne con nessuno, specialmente con noi, figli, problemi di salute tanti che ne ha avuti, è morto giovanissimo a 60 anni. Questi momenti e ricordare soprattutto queste persone che hanno subito gravi danni nella loro vita ma hanno tenuto alto il nome del nostro paese, chiaramente ci servono anche ad avere memoria della storia.